Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, io sono Paola, oggi facciamo una svuota da spesa o due. Mi viene da ridere perché so già che qualcuno mi sfriderà un pochino, però dai. È sano? Un po' sì, un po' no. Vedremo comunque che stanno facendo. A voi che mi state guardando e non siete iscritti, iscriviti, iscrivetevi tutti, condividete, commentate se vi fa piacere, condividete perché non potete sapere che cosa portiamo noi di interessante, che può essere utile a qualcuno, mettete like, è tutto gratuito, aiutate il nostro canale a crescere. Sono da sola, i bambini a scuola, non dovrebbero esserci problemi, speriamo, perché sapete, chi mi conosce, che ogni volta che vi faccio un video succedono casini. Benvenuti ai nuovi iscritti, questo video penso che lo vedrete a gennaio, quindi buon 2023. Non credo di farlo uscire prima di Natale perché non so se per Natale farò uno svuoto alla spesa natalizio, che andrò da mia mamma, e uno svuoto alla spesa per il 31 di dicembre. Non lo so. Vedremo strada facendo. Quindi nel caso in cui questo video dovesse uscire nel 2023, buon 2023 a tutti. Sarà uno dei primi svuoto alla spesa che vi farò vedere. Allora, sono andata all'U2, quindi ho un'usuoto alla spesa non tanto lungo. Io intanto lo programmo per il 2023, poi vediamo come va la situazione. Sono andata a prendere delle cose che sono prettamente per vegetariani e sono pochissime cose anche per i carnivori, sono veramente poche. Questa volta è un'usuoto alla spesa praticamente principalmente quasi solo per me, per me e per Rocco. Anche lui non è un grandissimo mangiatore di carne. La mangia comunque, ma se c'è o non c'è per lui è indifferente. Iniziamo con la prima cosa di cui so già che mi sgriderà tantissimo Claudio. Ciao Claudio! Però mi salva la vita quando praticamente io non ho tempo. Ok. E sono queste. Claudio, non guardare. Sono le cotolette queste qua del marchio U2 a 1,29€. Io molto spesso C'è il mio gatto che stava facendo le unghie sul tappeto. Che stai a fa? Io molto spesso i nuggets di questa marca qua li trovo a 64 centesimi. Sono dentro 200 grammi. E ne faccio scorta per quando magari facciamo tipo la serata tipo quella McDonald's che loro mangiano i nuggets o tipo il sabato sera. E quindi li do o la domenica sera e li do questi. Allora, questi qua a 1,29€ e 200 grammi ne ho presi tre. Che saranno la cena di stasera che per me è il 2 di dicembre. Visto che stasera c'è Rocco, Rocco non sa neanche benissimo. È un po' raffreddato. E per facilitargli anche il lavoro stasera mangeranno questi. Quindi anticipiamo la serata quella schifezzosa. Quindi mangiano una di queste a testa. Cioè ne ho prese tre perché Mario mangia parecchio. Quindi Mario ne mangerà tre, Francesco ne mangerà due. Poi vediamo magari l'altra la mangia Rocco. Poi ho preso di carnivoro il mio guannaggio a me. Zainetto salva vita. Questo qua tra l'altro l'ho pagato pochissimo. L'ho preso credo al tigotà. Credo di averlo pagato 9€ ma è comodissimo perché è veramente estremamente capiente. Adesso vedete tutto ciò che c'è all'interno. E io me lo porto sempre dietro quando devo prendere qualcosa di veloce e che sia poco. Questa è la terza che vi faccio vedere. Che non sia tanta roba così da non sovraccare sulle mie braccia. Perché ormai questo braccio qua l'utilizzo è estremamente limitato. Sono in attesa di fare esame. Poi ho preso, visto questo qua, super scontato. La paella, sì lo so che è già fatta. Non sguidarmi Claudio ma per stasera per Rocco va bene. Visto che ieri ha voluto la carne. Non ha mangiato tutti e due i vassoi, credo. Non ho controllato ma mi sembra di aver visto che c'è anche un altro vassoio di carne. Quindi mangerà questo con la carne. Che loro mangiano prima di quanto arrivo io. Poi, aspettate un attimo, arrivo subito. Ahimè, fa freddo e sono un pochino raffreddata anch'io. D'altronde, siamo raffreddati tutti. Passiamo per la parte quella per me. Allora, l'U2 ha delle cose che mi piacciono moltissimo. Nel senso che sono, adesso le vedrete, sono secondo molto il mio stile di vita. Nel senso sono ecosostenibili, filiera controllata, italiani. Addirittura alcune cose hanno la carta, il contenitore di carta. Diciamo che in questo momento stiamo cercando di risparmiare per rifare la porta principale e le finestre. Quindi dobbiamo fare un attimino attenzione al budget. Ed è il motivo per cui avete visto delle cose che non sono proprio molto in stile con il mio stile di vita. Ma in questo momento devo guardare anche un pochino quello che è il mio budget. Quindi cerco di mixare le cose. Quando posso, cerco di essere il più ecosostenibile possibile. Quando non posso, non vogliatemele. Ma ci sono magari altre priorità. Tipo le porte e le finestre. Le finestre sicuramente le faremo poi più avanti. Ma stiamo risparmiando per quando ci daranno l'ammazzata delle finestre, praticamente. La porta, quella d'ingresso è quella che ci costa di più. Cioè, in questo momento ci serve di più e quella che costa di più in proporzione. Allora, ho preso queste che le voglio provare. Anche qua mi scriverà tantissimo, credo Claudio. Cotte al forno, non fritte. E mi piace molto perché sono praticamente bio. Costavano un botto. La paella, l'avete visto, costava 1,79 euro. Queste costavano veramente tantissimo. Ma era un per provare. E queste le ho pagate. Aspettate. Ah, tra l'altro ho preso 3 mascherine FFP2. Che la costavano 69 centesimi. L'una se ne potevano prendere solo 3 per scontrino. E ne ho prese 3 perché se devo andare a fare l'esame in ospedale mi hanno detto che non basta la chirurgica. Se sei lì come accompagnatore la chirurgica basta. Ma se sei lì a fare le terapie ci vuole FFP2. E quindi mi sono premunita. Polpette, fava e piselli. 3,79 euro. C'è un botto. Però, non so se la mangerò stasera che finisco le 7. Dovrebbe esserci tra l'altro anche lo sciopero. Pregate per me che non ci sia sciopero. Perché se no o devo chiamare Rocco per farmi venire a prendere con i bambini. O devo aspettare alle 8 che mi accompagna qualcuno. Quindi un'ora all'interno del negozio a fare la baccalà. Sono due porzioni. Sono fatte con fave, reidratate, piselli, carote, cipolle, olio di girasole, burro di cacao, farina di ceci, farina di riso, sale, prezzemono, zucchero, succo di limone, paprika, rosmarino e pepe. Quindi l'origine dell'episella italiana è l'origine delle fave europea. Quindi come vedete non contiene praticamente glutine. E per me va bene. Sto cercando di essere brava. Perché penso che tanti dei miei sintomi derivino anche... Delle infiammazioni derivino anche dal cibo. Se dovesse sentirmi il mio marito mi direbbe te l'avevo detto. Io ho delle intolleranze per cui credo, se non ho capito male, creino anche delle infiammazioni. E probabilmente le infiammazioni che ho derivano anche da queste cose. Quindi sto cercando di essere brava. Nella spesa che ho fatto ieri da Tigros, che abbiamo preso veramente il mondo. Non ve la faccio vedere, abbiamo speso 320 euro, non la vedrete. Questa qua diciamo è la rimanenza, soprattutto per cose per me. Perché per me ieri ho preso veramente poco. Quindi queste... Ho preso qualcosa per la colazione e qualche sostitutivo del pane. Queste qua. Penso che o li mangerò adesso prima di andare a lavorare, perché poi devo iniziare alle 3. Quindi magari uno lo mangio adesso e o mangio qualcos'altro di quello che ho preso qua e il resto lo mangerò nei prossimi giorni. O addirittura lo congelo. Una cosa la volevo portare a mia mamma perché l'ho provata ieri al Tigros, ve la faccio vedere. E vegetariane, l'ascolto, è veramente buona. Sappiate che molte cose dei vegetariani io ancora non mi sono abituata come gusto. E' vero che tante cose, è meglio non comprarle già prefatte perché sono piene di additivi, di conservanti, eccetera. Che tra l'altro ho scoperto che io devo stargli lontana. Col tempo ho scoperto anche questa. Cioè nel senso che devo mangiarne di meno perché creano allergia, creano infiammazione. E forse è anche un motivo del quale sono anche così infiammata, non lo so. E' una cosa così che ho scoperto. Nel mio caso, senza additivi, senza uova, fonte di fribri e proteine. E' biologico, però queste cose qua costano un botto, cioè. Costano un botto. 100% vegetale. Quindi se dovesse mai trovare in giro questa marca, il prezzo è abbordabile. Penso che farò scorta per i momenti in cui non sono di fretta. Quindi io ho un cassetto solo di roba mia che devo svuotare un po' del pesce e iniziare a metterci questo. Quindi anche nel frigorifero io ho la sezione vegetariani, che è un angolino nel secondo ripiano partendo dall'alto mio. E il resto, il secondo ripiano, il ripiano successivo è totalmente dedicato ai bambini. Il piano superiore è dedicato all'apertura del pane che lo conservo là sopra. I dempiadini eccetera. E ci sono la pasta quella già tipo gnocchio, pasta tipo magari ravioli. Quelle cose lì già pasta fresca. E nell'altra parte, la maggior parte del mio ripiano, contiene affettati e formaggi. Principalmente per Rocco. Cioè i formaggi li mangio anch'io, ma gli affettati li mangia solamente lui. E tra l'altro mi ha detto non comprarne troppi perché non li mangio. Infatti le compro tipo una volta al mese, sperando che lui se li faccia bastare. Non è mai così. Quindi sono tipo una volta ogni 15 giorni. Quindi questo 3,49 euro, 3,89 euro, un prezzo assurdo veramente. Altra cosa, queste le ho comprate. So che a qualcuno tipo Claudio farò sorcere il naso. Però vi ripeto, mi servono nei momenti in cui io non sono una grandissima cuoco. Ma proprio per niente. Ma nel momento in cui proprio non c'ho voglia, non ho tempo, non c'erò col mio cuoco. E quindi devo assolutamente fare da qualcosa shue shue, come dico sempre io. Allora, queste cose sono mini hamburger. Questa marca è buonissima perché io ieri ho mangiato questi e ne sono dentro due. E per chi vi dicevo come me, a cui non piace ancora la soia, non mi sono ancora abituata alla soia. Questo qua è veramente eccezionale. Io ieri l'ho mangiato e l'ho gustato proprio tantissimo. E io adoro tanto, veramente tanto. Ahimè credo, non ho guardato all'interno, ma sì, contiene grano in ogni sua parte. Purtroppo contiene grano. Però è veramente buonissimo. Io spero che di questa marca facciano la panatura con non il grano, ma con il riso o con la soia, con qualsiasi altra cosa non contenente grano. Lo spero vivamente. Anche con il mais va benissimo, basta che non è grano. Quindi ne ho presi questi, costano un botto anche questi, costano tra i 2,69 e i 2,99. Allora, questi costano 2,89, costano tantissimo, però sono veramente buoni, ma buoni, buoni, buoni. Della serie che se fate una serata McDonald's tipo, quindi fate i panini di McDonald's, noi vegetariani possiamo tranquillamente mangiare questo. Ed è veramente buonissimo. 2,89. Presumo anche questi siano buoni, questi era semplicemente per assaggiarli, sempre marca QN. Mini burger con zucca e carote. Io adoro la zucca e adoro le carote. Sì, è vero, li posso fare anche da me, ma vi ripeto, per una roba shue shue. E invece questa gran tagliata, che sono molto curiosa di assaggiare, sperando che sia con lo stesso sapore di questa, che veramente era buonissima. 3,99 c'è. Anzi, se siete arrivati fino a questo punto, me lo auguro. Qualcuno che conosce un supermercato in cui questa marca costa meno, fatemelo sapere perché almeno so dove andare a prendere. L'U2 è carissimo, l'S lunga è anche caro, so che ci sono anche da S lunga, non so se ci sono. C'era la QN da Tigros, ma ha buttato lo scontrino, quindi non ho la più palida idea di quanto costi la QN da Tigros. Devo dire che U2 ha un bellissimo frigorifero, ben tenuto, almeno nella mia zona, con tutta roba di vegetariani e vegani, perché c'è anche qualcosa di vegano. Questi qua costano un botto, 3,99 euro, veramente costano tantissimo ed è una mazzata nei denti. Quindi, gli ingredienti, eccole qua, acqua, proteine di soia, semi di gizzo al sole, farina di soia, albume, sale, estratto di cipolla, glutine di grano, sì, glutine c'è. Però questo qua, ad esempio, sì, sono tutti vegetariani, perché non sono, questo qua non so se sia vegano, lo sapete che non ne ho la più palida idea. Non mi sembra così a grandi linee di aver letto uova, quindi questo dovrebbe essere addirittura vegano, non vegetariano. No, questo è addirittura vegano, non contiene latte, non contiene uova, non contiene praticamente nulla di animale. Quindi questo va benissimo per i vegani, 2,89 euro, 2,69 euro. Anche questo non contiene né uova, né nessun altro. Bene, anche questo è vegano, questo qua è vegano. Questo invece contiene le uova, contiene l'albume, quindi questo è per i vegetariani. Tra l'altro io e le uova non andiamo neanche tanto d'accordo, perché me... Quindi, a parte questo qua che vi ho fatto vedere, e questo, vi faccio vedere, tutto il resto era nel sacchetto. Quindi questi due sono all'interno del mio zainetto, ma vi faccio vedere quanta roba c'è stata all'interno del mio zainetto. Ci sono le FFP2, ben tre, non ve le faccio vedere, lo sapete, vi ho detto che possono 69 centesimi, e se ne possono prendere solo tre. Io amo tantissimo il viaggiatore goloso come marca, che tra l'altro lì all'U2 non costa neanche tanto, e ho preso questi frierielli a cubetti, surgelati, da filiera ecosostenibile. E questa cosa mi piace particolarmente. Tra l'altro, il prezzo dei frierielli non è neanche tanto, viene 1,79 euro, 450 grammi. Può sembrare tanto, ma tenete presente che non hanno residui di fitofarmaci, e sono da filiera ecosostenibile. E io questa è una cosa che adoro tantissimo, e comunque si cerchi, e sono italiani, e si cerchi di essere ecosostenibili e italiani. Se fosse stata la carta, la plastica, invece se la plastica fosse stata carta, sarebbe stato il top. C'è l'equivalente in carta, ma costa 50 centesimi in più. Poi mi sa che non sono neanche frierielli, ma mi sembra siano cimi di rappa. Quindi sono, credo sia uno della stessa famiglia, però... Sono praticamente 50 centesimi in più, io preferisco prendere questi, ne ho così, ben 3. E sono molto contenta, infatti io principalmente queste cose qua le prendo all'U2, quando posso, quando sono vicino alla scuola di Mario. Poi, questi qua sono i tavoli fiore, 1,09 euro. In questo caso non... No, non c'è scritto niente di particolare, ma l'altra volta avevo trovato questa tipologia, che costava meno quello con la carta, se non ricordo male. Ma ho visto stavolta che c'erano insattivamente questi. Poi, i broccoletti, perché prendo verdura su gelata? Perché questo tipo di verdura, magari finisce nel fondo del cassetto, viene consumata per ultima, e va male e mi dispiace. Invece a me piace molto, e allora preferisco prenderla congelata, così quando mi viene lo schizzo, mi viene la voglia, la mangio. Perché principalmente, almeno noi, consumiamo prima l'insalata, che noi doriamo l'insalatone, sia d'estate che d'inverno, le melanzane, le zucchine e i peperoni. Quindi poi, anche i finocchi passano in secondo piano. I cetrioli, no, Rocco, perché è un mangiatore di cetrioli, però i pomodori, peperoni, zucchine e melanzane, sono le prime che vengono consumate. Quindi queste magari, soprattutto se non sono in bellissima forma, poi magari rimangono sul fondo e sono costretta a buttarli, e mi dispiace tanto. Quindi questi qua, i broccoletti, questi a 1,69 euro, sono sempre 450 grammi, come i friarelli, sono da filiera ecosostenibile, senza residui di fitofarmaci, italiani. E mi piace tantissimo questa cosa, italiani, senza residui di fitofarmaci, che è qua, e da agricoltura ecosostenibile. Ed è una cosa che io adoro. E di questi le ho presi due, e ho preso anche due cavolfiori. Ecco. Diciamo che alcune cose si possono evitare, però... Devo preso lo stesso. Tipo queste, magari... Tipo queste, che me le posso fare da me. No, questa no, perché questa qua. Questa qua che me la posso fare da me. Quelle dei bambini magari le potevo anche evitare. Diciamo che stasera è un salva cena per stasera. Queste cose costruggiate, noi le consumiamo subito, le consumeremo un po' alla volta. Tra l'altro le avevo finite, ve le avevo fatte vedere. Per chi non mi conosce, non ho svuota la spesa. Mamma mia, sembra enorme. È probabilmente... Spero sia per come ho messo la telecamera. Spero. Se no, pazienza. Sono così, prendetemi così. Non sono brava io a farmi sembrare più magra. Vabbè, fa niente. Dovrò trovare anche io le inquadrature e quelle da sopra in cui sembri più magra. Ma non ce la farò mai. Allora, quindi queste cose le consumiamo, tra l'altro con la testa tagliata, per sembrare più... Posso stare anche così. Ma non mancano, ma chi se ne frega. Non sono una youtuber figa, gnocca, di quelle che si preparano i patici capelli. Devo andare ancora dalla mia parrucchiera che mi ha dato per dispersa, ormai. Ciao Monica. Ciao Monica. Prima o poi verrò a fare il colore. Magari per Natale. Ce la farò. Allora, quindi queste cose le consumeremo un po' alla volta. E niente, se trovo qualcosa di carino, ve lo dico nei prossimi svuota la spesa. Quindi assolutamente U2 per le cose congelate va benissimo, che tra l'altro non costano neanche tantissimo. Intendo cosa è sta roba. Devo trovare un posto in cui mi costa pochissimo la roba, questa qua, salva cena, salva pranzo, per i vegetariani e vegani. E vi ricordo il tigro. Mamma mia, sembro... E vi ricordo invece se volete della buona pasta integrale italiana biologica a pochissimo, o 99 centesimi, il tigros è il posto in cui l'italiano e il biologico e l'integrale costa tutto insieme. Quindi pasta italiana integrale e biologica costa una scemata. E trovate un sacco di formati. Trovate le farfalle, i tubetti, per fare tipo pasta e fagioli, noi facevamo pasta e fagioli con i tubetti, o pasta e ceci, penne, tortiglioni, farfalle, già ve l'ho detto, e gli spaghetti. Mi sembra che ci siano forse anche altri formati, non mi ricordo. Va bene. Mi è venuta fame perché tra poco è anche orario di pranzo, e vi mando un bacione grandissimo, come al solito sono logoloica. A te che non sei iscritto ti ricordo di iscriverti, di mettere like, di condividere perché non puoi sapere chi possono essere utili i nostri video. E tanto per voi è tutto gratuito e non vi costa nulla. Aiutate il nostro canale a crescere e vi ricordo anche di commentare se vi fa piacere, soprattutto se sapete dove trovare questi che sono buonissimi, a non un rene, perché vorrei mantenerlo un rene. Un bacione e alla prossima. Ciao!